buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi proponiamo un altro tronchesino è un tronchesino di qualità sempre made in italy in grado di tagliare fili del diametro di 1,3 mm è un prodotto made in italy e viene utilizzato per modellismo elettronica nel settore della creatività e per lavori di precisione grazie per la visione grazie